Un premio dedicato a tutti coloro che si sono impegnati con forza per restituire a Barletta l'antico ruolo di città di mare. L'iniziativa è del Centro Studi Cittadella Innova. Ne parliamo con il referente Nicola Palmitessa. Questo premio ha sicuramente un merito, quello di riportare il mare al centro dell'attenzione in una città come Barletta, che sembra aver perso il suo rapporto proprio con l'ambiente marino. Sì, credo che non soltanto Barletta abbia voltato le spalle al mare, probabilmente anche città, capoluoghi di regione come Bari, ma anche molte città dell'Italia meridionale. Il problema, la sfida è sul nuovo ordinamento dei porti, però non basta porre l'attenzione massimediale sul nuovo ordinamento dei porti perché il valore aggiunto si chiama territorio. Allora, le indagini culturali, storiche e sociali riportano l'attenzione di città, per esempio, come Barletta per la Puglia, che vanta una forte identità culturale fino al XIX secolo. Con la rivoluzione manifatturiera della tessile, abbigliamento e calzature di oltre un secolo, ovviamente la città non poteva non volgere le spalle al mare. Quindi recuperare questa risorsa è la sfida delle sfide di uno sviluppo economico sostenibile, ma uno sviluppo economico sostenibile non può che fondarsi su una identità di lungo periodo, non un'identità di folklore, un'identità paesana, ma un'identità forte, che richiama una grande vocazione di tipo nazionale. Tant'è che il reggio portolano di Puglia era l'identità che governava un po' tutti i trappici dal Medioevo fino all'Ottocento, dagli Abruzzi al mare Ionio, no? E quindi con i mutamenti, con la rivoluzione industriale, questa identità è venuta meno. Oggi con la sfida della globalizzazione, che viaggia sulle coordinate del mare, sia i trasporti di merci che i passeggeri sono veicolate attraverso il mare, quale è la risorsa migliore, se non quella di tipo marinaro, che è capace di coinvolgere l'aspetto identitario storico e l'aspetto propriamente economico?